Musica Bella a tutti ragazzi Siamo qui oggi su Call of Duty Black Ops 2 Per un nuovo speed ragazzi Tu taci intanto bravissimo Allora siamo qui ragazzi con l'SMR E in caso vinciamo La seconda partita sarà col coltello balistico ragazzi E le vedo molto dure perché non le so molto usare Cioè l'SMR non l'avevo neanche sbloccato come coltello balistico ragazzi Quindi vediamo un po' come gestare un po' la situazione Prima kill è buono Ecco perfetto Allora ragazzi Oggi vi porto Intanto un'altra kill Oggi vi porto ragazzi Black Ops Voi dite Ma perché non ci porti Evil Witna oggi? Che avevi detto che fa Let's Play Ragazzi Allora Adesso è sera Adesso è sera E Cioè oggi è mercoledì sera Allora Io ho guardato il video insomma Quanti mi piace Quante visualizzazioni ha E come vi ho detto Non sembra avere molto interesse Capito ragazzi A me piacerebbe farlo E Ve lo dico di cuore Solo ragazzi che se Ha poco interesse da parte vostra È inutile che lo faccia Tra virgolette Magari me lo gioco io a casa Ma Non ve lo porto Capito ragazzi Cioè a me piace come gioco E mi piacerebbe continuarlo Basta che voi Mi date un supporto Come vi ho già detto Così posso Continuare ragazzi Capito? Non è per mi piace È proprio per capire Se vi piace a voi Capito ragazzi? Comunque Per questo porto Call of Duty Così vi lascio Il tempo a tutti Di guardarlo Visto che l'ho pubblicato tardi Magari Era via Aveva allenamento O altre cose Quindi Lo porto Cioè vi lascio un giorno Per vedere un po' Se l'ho guardato a me Comunque Adesso Ci facciamo scoprire Aspetti Perfetto Ci ha fatto il giro Il coglione E Lasciamo 4-7 Partita Mi sa che Non riusciamo a vincere questa Occhio Perché vedo che Comunque siamo sotto Quindi Boh I colpi Di culo Cioè La mia bravura A volte viene fuori Più tardi No dai scherzo Spero ragazzi Apprezzate che vi vengo Incontro Comunque che Vi porto un video al giorno Comunque lo faccio per voi ragazzi E Se non lo faccio Intanto Parlando Sto morendo un casino di volte Ecco Perfetto Se Se non ve lo porto ragazzi Sto male davvero Mi sento in colpa C'è una cosa Incredibile Occhio Occhio Ok Andato via Andato via Sì Ok Comunque 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 6-9 Vabbè dai È un po' lenta Questa partita Diciamo Cioè Ci sono Quelli che arrivano A 30 In 2 secondi Quelli che hanno Tipo L'armi in diamante Cioè Anch'io ce le ho Però Ragazzi quanto odio La gente che va Cioè fai tutti contro tutti La squadra Quello Quello che sia Con l'armi in cui è più forte Bene Allora tutti giocherebbero così E nessuno migliorerebbe mai Io gioco col mio MP7 Diamantato Sempre Anche se tutti contro tutti Ci vetteranno Eccetera E non do La possibilità agli altri Farsi le mimetiche Eccetera Esci bitch Intanto Surprise Motherfucker È a tanto che non dico Devo ricominciare a dirlo Dai Nico Store Dai Su Grandissimo Dai Continua così 11-13 Dai Insisti Grandissimo Esci bitch Surprise Motherfucker Grandissimo Occhio Grande Uavì Grande Dai 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 Insistiamo Dai che adesso Prevoriamo la posizione Dai Porca puttana Cosa ha fatto Prendi Boh Boh No C'è Avete ragione C'è la sfiga mia Non si può Non si può cambiare Non si può 16-15 Abbiamo rimontato Ragazzi Proprio Grandissimo Grandissimo 17 Meno 13 kill Comunque ragazzi La verifica di matematica Che avevo fatto L'altro giorno Sapete ragazzi Quella che vi ho detto Che verifica Cazzo la torretta Ci maffa Un culo Però Si è coglione Forte Non è andato molto bene Quindi Dovrò recuperare Ci ho già chiesto Alla prof Se mi faccio E poi interrogare Va bene dai Recuperremo E il bello E il bello è che Sono bravo in matematica Solo che Quel giorno Visto che ero Stato a casa Un giorno Da scuola Eccetera Che non stavo Molto bene Ash Beach E Non Non ero in forma Diciamo Grandissimo Unicastar 13 Grandissimo Dai Insisti Meno 9 kill Dai Su Su Dai Grandissimo Coglione di merda Con la torretta Credo di fare il camperone Invece C'è unicastar 13 Che Gli dice Eh no Tu non lo puoi fare qua No Questa è la mia zona Non puoi Stordito Lo uccide Da stordito Ragazzi Da stordito Non ho parole Però Grandissimo Dai Secondo Wav Dopo che Ho imparato Un po' Usare l'SMR Abbastanza forte Comunque ragazzi Continuate a consigliarmi Le sfide Ragazzi Che Uno Anzi due di voi Mi hanno consigliato Di fare Questa sfida Con l'SMR Il coltello balistico Quindi Continuate pure Ragazzi Che mi fa piacere Che Vedervi Partecipi Insomma Più partecipi Siete Meglio Perché Mi fate capire Che ci siete Ragazzi E' andato Questo qua Non ho capito Come ha fatto A vedermi Boh Fu buono Fu buono Dai Due kill Cazzo Eh Vaffanculo Vuoi vedere Che adesso Mi raggiungono Magicamente No dai Una kill Dai Dai Ci giriamo Grandissimo 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 Di questa Attrice Eh sono andati Via adesso Tutti Vabbè Comunque ragazzi Guarda che roba Dai Vediamo Cioè Mira Mira Da far cagare Proprio Il cazzo Comunque ci vediamo Sulla seconda partita Ragazzi Col coltello balistico Eccoci qua ragazzi Sulla seconda partita Siamo su raid E Useremo Il coltello Balistico Però la vedo Molto Ecco Partita È già iniziata Ovviamente E Siamo 0-4 Dai Cerchiamo Di farlo Meglio Diciamo Questo Cerchiamo Di fare Il nostro Meglio Ragazzi Perché Il coltello Balistico L'ho sempre Odiato Vi ricordate Ragazzi Con Road No Road Con Biosk Runder Eh L'ho sempre Odiato I coltelli Balistici Ficili a Pompa Quindi Insomma Mi dà Un po' Di Fastidio Usarli Un po' Di Ribrezzo Tanto Grandissimo Il chilo Cioè Se oltre ne becco mai uno Vabbè Adesso Magari ne uccidiamo un altro Abbiamo l'uav Cazzo Ti pareva Ti pareva Cos'è che ho detto Uccidiamone uno Cos'è che è successo Mi hanno ucciso Che strano Che strano Vero L'avrei mai detto Cazzo È difficile Perché se ti vedono È impossibile Prenderli È Impossible Cazzo È Lug Spike Cazzo Grandissimo Dai Accoltarla Tutti Fagli vedere Il sangue Il sangue 6-7 Ragazzi Stiamo recuperando Dai Magari riusciamo Anche a vincere Questa Sembra una Sottotifazione Incredibile Visto che Accoltare Il balistico È una cosa Difficilissima Appunto In caso Non riesco a finirla Ragazzi Comunque ci sarà Sul prossimo episodio Quindi Se non riesco a finirla Datemi un altro consiglio Nei commenti Sulla mia pagina Facebook Nei commenti Qui sotto Dal video Su che arma fare In caso Non la finisco Se invece la finisco Me ne date due Comunque ragazzi Anche se uno scrive E Fai Che non so All'MP7 Commentate anche voi Comenta anche tu Insomma Non abbiate paura Anche se Se scrivete in 10 10 armi diverse Farò uno Una volta uno Una volta l'altro Ci sono problemi Ragazzi Comunque 8-10 Dai Chiamolo Eh sì Buonanotte Per fortuna che Stava ricaricando Sì Ciao Buonanotte Buonanotte Salve signore Buonanotte Grandissimo Unico Starterici Grandissimo C'è Ciao Neanche visto Dai Super le scale Occhio Grandissimo Grande Quella Lo riusciamo a prendere No Bene Benissimo Bene 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 12 pari Esistiamo dai 13 Sinceramente Pensavo Forse Po' più difficile Usarlo Comunque L'unico Problema Come vi ho detto Quando Si muove Il personaggio Diciamo Conti Vede il personaggio Sono confuso Comunque ragazzi Vi ricordo sempre Se un bel mi piace Un bel commento Sotto il video Ragazzi Se vi è piaciuto Il video Tanto Sotto Quello Chiamolo Grandissimo Ho anche l'altro Ho anche l'altro Aspetta 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 Ecco Ma vaffanculo Si Stronzo Eh si Buonanotte Cioè Che cazzo è L'ho trapassato Ma se stai scherzando Vero Ma vaffanculo Vedi Trovo con Odio Odio totale Comunque Mi sto dicendo Vi ricordo Vi lasciare un bel mi piace Un bel commento Il video Che mi fa Molto piacere Così posso sapere Cosa trattare Che giochi a fare Se no Mi davvero Mi mettete In una gran difficoltà E Diciamo È brutto vedere Che Cioè Magari In video Ci metto 40 ore A farlo E E non lo guardate Nel senso Almeno per capire Cosa vi piace Per portarvelo Capite ragazzi E Tutto qua Quindi ragazzi Per chi non Abbia visto Devil Whitney Passi a vederlo Ragazzi E Fatemelo capire Se vi piace o meno Con un commento Con un like Quello che volete E Mi dite se volete Che continui E Un consiglio sulle armi Su Black Ops Tutto qua ragazzi E vi ricordo Iscriveteci Se non l'avete ancora fatto Ragazzi Su Su Dai 18 19 Siamo là Con i punti Magari ce la facciamo 19 pari Grandissimo Unicostartrice Si può fare Intanto Lag Alla cazzo Perché il gioco Non ha voglia Perché nel gioco Visto che non sa cosa fare Dice Perché non gli facciamo laggare Unicostartrice Perché non lo facciamo laggare Intanto con l'acca Però Se ciao Che cazzo fa Lo stai scherzando No Era Era folgorato Quello Stai scherzando Mi ha fatto Spanare Che cazzo fa Se intanto Questi qua camperano E' ovvio che dopo Mi raggiungono Porca puttana Camperano Tutti Occhio Cioè ciao Buonotte Affanculo Mitragliete Del cazzo Ogni volta Lasciamo prenderlo Madonna che cazzo Perché dovevi venire Il mitra di 3 Ecco 23 24 Perfetto La perdiamo No dai Ci provo Ci provo Ragazzi Ci provo Tutto perché Perché erano le mitragliette Le OP Le overpower Se ciao Notte 25 Questo qua il primo Vaffanculo Stronzo di merda Se Perché gli manco Porca puttana Gli ha coltello Ecco Grande 24 25 Dai Forse ce la facciamo Dai 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 25 pari Grande Scappa Andiamo a andare di là Torniamo indietro Vediamo se c'è qualcuno Porca Porca puttana Ma mi sta prendendo Per il culo Ma qual è la porca puttana Perché Adesso mi spiegati Perché ragazzi Ogni volta che ha coltello Lo prendo Mi sa niente che non lo prendo No Voglio saperlo È una cosa incredibile Porca puttana Vaffanculo Dai che siamo 25 pari Porca puttana Dai cazzo Dio buono dai C'è vaffanculo Ecco 27 Stronzo Stronzo il cazzo Sì Vabbè Sempre alla distanza Ecco Vedete quando Uno si impegna Tutta la partita La fine perde No Stiamo Stiamo Perverso Ma l'abbiamo ancora perso Se magari Lusciamo uccidere invece Ma guarda che roba Guarda 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 te Guarda te Porca puttana Guarda te Madonna Ecco vaffanculo Ecco vaffanculo Dai cerchiamo di Attringerlo O di fare Mamaton Finalmente Oh grandissimo Il salto 27-28 Si può fuori Si può fuori Occhio Sì Vaffanculo Prendere un po' Dopo Dai Vabbè dai Buon risultato Quindi la continueremo La prossima volta Col coltello balistico Ragazzi Spero Vi sia piaciuto il video Spero Di essere stato Discretto come gioco Come gameplay Insomma E allora vi ricordo Sempre lasciare un bel like Un bel commento Iscrivetevi al canale Se avete ancora fatto Qui da Sfide di Black Ops Da Nico Stratenici È tutto Bella ragazzi Nico Stratenici Bella